Salve a tutti ragazzi, salve a tutti e bentornati sempre sul canale Fede Company Siamo di nuovo qua con Bloodborne E ho ammazzato quello con il sacco Quindi sono sceso giù e c'è questa bellissima zona da andare a trovare, a vedere E dunque, vediamo un po' Cosa ci aspetterà in questa bella zona Tanto questi Faccio secchi così Non si vede un cazzo, ma giustamente Siamo su Bloodborne Deve essere tutto così bastardo Però qua non c'è nulla Merda, c'è questo qua dell'inizio del gioco Ma non fai di niente Ma insomma Poi tolgo, dai Merda, però è forte Continua ad essere forte Minchia, c'è forte Fanno giù lo te e tua sorella Che cazzo Sono proiettili Di qua non si va da nessuna parte Ha droppato Ce n'è un altro Che bello, che bello, che bello Meno male che ha droppato le fiale Ora Proviamo a... no Voglio provare Utilizzare la pistola Vediamo se riesciamo a... Sì Però non l'ho preso in tempo Quindi Vai E vaffanculo Morto Morto Ho visto che c'era un ragnetto Però me lo sono fatto perdere Come un imbecille Fiala, fiala, fiala Perfetto Qua cosa c'è? Nulla C'è soltanto Un corpo L'esir di piombo Vediamo cosa serve L'esir di piombo L'esir di piombo L'esir di piombo Do sta l'esir di piombo Eccolo qua Medicina liquida Modifica il peso Ok Modifica Muta temporalmente il peso Rendendo più facile Schivare gli attacchi Va però usata Con attenzione Dato che rallenta i movimenti Senza migliorare la difesa La ricetta di questo liquido Misterioso è sconosciuta Ma alcuni sostengono Che diventi visibile Solamente nei Luoghi più terrificanti Terribilmente uno Comunque degli incubi Quindi insomma Non E qua dove sono? Mi sembra un'area di boss Però non vorrei Dire una stronzata Questo cos'è? Vediamo C'è qua Mi si apre Perfetto Ah Cazzo è Via 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 Me ne vado Ragazzi Se non si apre Io torno Torno Dove sono venuto E lasciamo stare La jet Non è il giusto Non è il luogo giusto Questo per andare Ma dove vado adesso? Come faccio A salire di nuovo Su in fondo? Forse da qua? Spero di sì Sì Forse sì Forse di qua Riusciamo ad arrivare A dove ero Prima Spero Sì 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 Di qua Ok Perfetto Oh santo dio Quanto è difficile la vita Qua in Bloodborne Io adesso Eccoci qua ragazzi Siamo tornati Insomma Dall'altra parte Della cattedrale E vediamo Cosa ci aspetta Di così meraviglioso Per adesso Nulla Mi sembra sempre Un luogo Non tanto amichevole Ma va bene Tanto lapidi Dappertutto Teschi Schifezze varie Là c'è un bel cagnolino Spero che sia un cane A meno che non sia Un altro boss Non penso Mi sembra troppo un'aria vasta Comunque sì Penso che sia un cane Che noi andiamo Sinceramente Ad ammazzare così Non l'ho preso C'è gente che spara Gente che spara Ma tu muoio Perché Mi sembra il cazzo Di lasciarti in vita E sì C'è gente che Dove cazzo Stai Attami l'infiero Ehi Oh 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 Stai calmo Stai calmo Stai calmo Abroia Vaffanculo Dai Cassarolo C'è un altro Che spara Eh Eh morito Il cazzo Dai Non droppano Fiale Questa non è una bella cosa Però io voglio Prima andare a vedere Dappertutto Perché Ecco appunto Perché se me li Lascio alle spalle Questi mi fanno fuori Sicuro Come loro C'è un altro Questo muore C'è un altro ancora Perfetto Oh 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 Vai calmo Vai calmo Oh Cazzo Oh guarda Che stronzi Ecco Ecco di là Tutti tre stronzi Di merda Quattro Cinque Sei Quanti cazzo siete Andate a fanculo Un po' Palle Bene Una bella foresta Tranquilla Direi Proiettili Proprio Te li tirano in faccia Come se fosse Oh Come se fossero Madonna mia Però ragazzi Bella Che ho trovato un sacco Di sangue freddo Denso Almeno posso Rivellare Tranquillo e fiero Siamo già 10.000 punti Quindi Spero che più avanti Ci sia Una cazzo Di lanterna Va bene tutto Ma Lanterne Sono Il nostro pane quotidiano Che che parla Ecco Punto Che che parla E mi verrà Bordata Da questo Idiota Che adesso Muore Muore male Ok Speriamo che questa Sia la zona giusta Per avanzare Che non mi facciano Tutti il culo Perché Incominciamo poi A bestemmiare in turco E Non è una cosa bella Per gli Anzi Va bene Ecco Ci sono queste specie Di scrontitori Cani Non si capiscono E hanno Delle spalle Arnottuate Nella testa Dappertutto E loro fanno più male Dei cani Però muoiono come dei cani Figlia di cagna Però intanto Alla fine Droppano cose Che per il crafting Delle armi Sono male come cose Ma Ci sono abbastanza Fastidiosi Come questi che sparano E infatti Stanno facendo Brutte fine Beh comunque Alla fine Stiamo andando avanti Tranquillamente Pensavo fosse peggio La zona Però Premo il portone Si apre Si si apre Perfetto Abbiamo un sacco di punti Di ecchi Di sangue Voglio andare A livellare C'è una campana Ci sono corvi Intanto che volano Come se non ci fossero Domani Dovrebbe esserci una campana Si c'è la campana La A fare E io Torno al sonno del cacciatore Vi faccio vedere Come ho livellato Perché anche nei Puntate precedenti Insomma ho livellato Quindi voglio farvi vedere Come livello Ci becchiamo la Taglio Il caricamento E ci becchiamo Eccoci qua appunto Ragazzi Il signore del cacciatore Desidero livellare Se riusciamo Ecco Si va bene Possiamo fare solo Un cacchio di livello Non è una cosa Tanto carina Ma alla fine Arriviamo a livello 42 Comunque livellato così 20 di vitalità 20 di resistenza 19 di forza 15 di abilità 10 di arcana Tinta delle sangue L'ho ancora tirata su Però prima o poi Tirerò su anche quella Forse Allora io vorrei fare O forza Che mi dà comunque Un bello skilling Su quest'arma Magari arcano Perché a difesa fisica E la scoperta Salgono Di poco Ma salgono 3 punti 6 punti Quindi Però io vorrei fare Anche forza Ragazzi Sono Sempre stato uno Per le build di forza Quindi Addio Ok perfetto ragazzi Io direi che Per adesso Possiamo salutarci qua E ci becchiamo Al prossimo video Ragazzi Come sempre Vi dico Insomma Vi dico sempre Condividete i video Ragazzi Spollicciate su per me E niente ragazzi Alla prossima E ricordatevi La pagina di facebook Ciao a tutti Ragazzi Ciao a tutti